Mi limiterò a ricordare che quando il professor Balduzzi, diventato ministro, mi rese visita, io gli posi una semplice domanda che fu questa. Ritiene lei che il sistema sanitario nazionale, così come è nato nel 1978, come è stato concepito anche attraverso un'assai lunga gestazione, sia compatibile con le mutate condizioni finanziarie ed economiche del Paese? Era una domanda abbastanza intrigante, la risposta fu però netta e semplice, sì a condizione che, e naturalmente tutto sta a vedere che cosa significhi a condizione che. Io ho detto qualche parola che lei ha avuto la cortesia di citare, qualche parola recente, a condizione che ci sia capacità di innovazione, capacità di razionalizzazione. Dobbiamo dire che il disegno del Servizio Sanitario Nazionale è andato anche al di là del dettato dell'articolo 32, commentavo sottovoce con la onorevole Bindi. Quando si dice nell'articolo 32 prestare cure gratuite agli indigenti, si dice qualcosa al di là, ma molto al di là della quale è andata l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che ha fatto del nostro Paese uno dei Paesi più avanzati da questo punto di vista. Bisogna non regredire, bisogna non abbandonare quella scelta, non abbandonare quella postazione che è titolo di civiltà per il nostro Paese, ma bisogna effettivamente sapere intervenire, sapere intervenire anche di ciò abbiamo avuto occasione di parlare in qualche occasione, sapere intervenire in modo puntuale, con grande attenzione selettiva. La filosofia, la logica della spending review dovrebbe essere quella di modificare meccanismi e strutture che generano spesa abnorme, spesa non sostenibile e talvolta provocano anche degenerazioni e perfino degenerazioni corruttive. e bisogna poi valutare seriamente i risparmi di spesa che discendono da queste modifiche, chiamiamole strutturali.